C'è un problema per i materialisti in generale? C'è un problema per i materialisti in generale? E' inspiegabile a livello chimico. In questo campo, come in tanti altri, per dire la verità, il neodarwinismo e i materialisti sono perdenti. E quindi noi siamo fieri di andare avanti con i nostri studi e spiegare alle persone di smetterla di farsi prendere in giro da chi sostiene in assoluto che l'esistenza dell'uomo sia un fatto casuale e che non abbia un'origine che trascende la materia. Bene, quindi l'anima e la nostra coscienza sono essenza della nostra esistenza, volute assolutamente da qualcosa di superiore, che dal mio punto di vista non può essere altro che Dio.